In esclusiva per i canali Bezzodini Network e Rete Informazioni Europea, la lettura di una parte dell'accordo che gli Stati Uniti d'America e l'Ucraina hanno firmato a Kiev il 29 agosto 2005. Accordo firmato tra il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America e il Ministero della Salute dell'Ucraina riguardante la cooperazione nel settore della prevenzione della proliferazione di tecnologia, agenti patogeni e competenze che potrebbero essere utilizzate nello sviluppo di armi biologiche. Articolo 1.1. Al fine di assistere l'Ucraina nella prevenzione della proliferazione di tecnologia, agenti patogeni e competenze che si trovano presso l'Istituto di Ricerca Scientifica di Epidemiologia e Igiene di Leopoli, l'Ukrainian Scientific Research Anti-Plug Institute di Odessa, la Central Sanitary Epidemiological Station di Kiev e altre strutture identificate dal Ministero della Salute dell'Ucraina e che potrebbero essere utilizzate nello sviluppo di armi biologiche. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti fornirà assistenza al Ministero della Salute dell'Ucraina a costo zero, soggetto alla disponibilità di fondi a tal fine stanziati, secondo i termini del presente accordo. Punto 2. Il Ministero della Salute dell'Ucraina utilizzerà tutto il materiale, compresi attrezzature, strumenti e altre forniture, formazione del personale e servizi forniti in conformità con il presente accordo, esclusivamente allo scopo di prevenire la proliferazione di tecnologia, agenti patogeni e competenze che si trovano presso strutture in Ucraina e che potrebbero essere utilizzate nello sviluppo di armi biologiche. Punto 3. Il presente accordo e tutte le attività intraprese in conformità con esso sono soggette a disposizioni dell'accordo quadro. Nel caso di discrepanze dell'accordo TILIS e dell'accordo quadro, prevarranno le disposizioni dell'Umbrella Agreement, l'accordo dell'Umbrello. Punto 4. Il Ministero della Salute dell'Ucraina fornisce al Dipartamento della Difesa degli Stati Uniti un elenco di strutture in Ucraina che potrebbero ricevere assistenza in base a questo accordo, che stabilisce l'ordine di priorità del Ministero della Salute dell'Ucraina per tale assistenza. Articolo 2. Primo punto. Ciascuna parte del presente accordo ha il diritto, previa notifica scritta all'altra parte, di delegare la responsabilità per l'attuazione del presente accordo ad altre organizzazioni, dipartimenti, agenzie o unità dei rispettivi governi in conformità con le leggi nazionali di tale parte. Punto 2. Per coordinare le attività ai sensi del presente accordo a ciascuna delle parti di questo, l'accordo avrà il diritto, previa notifica scritta all'altra parte, di designare rappresentanti tecnici per il materiale, la formazione e i servizi forniti ai sensi del presente accordo. Articolo 3. Punto 1. Il costo totale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di tutto il materiale, la formazione e i servizi forniti ai sensi del presente accordo e le spese associate sarà corrisposto fino a 15 milioni di dollari USA. Punto 2. Assistenza fornita dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti al Ministero della Salute dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, può includere, ma non è limitato, a ricerca biologica cooperativa, rilevamento e risposta di agenti di minaccia biologica e assistenza per migliorare la protezione, il controllo e la responsabilità del materiale biologico al fine di ridurre il rischio di furto o uso non autorizzato di agenti patogeni pericolosi situato presso le strutture in Ucraina di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Punto 3. In base ai termini del presente accordo, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti può, a sua discrezione, fornire al Ministero della Salute dell'Ucraina altri tipi di assistenza previo accordo scritto dalle parti. Articolo 4. Punto 1. Il Ministero della Salute dell'Ucraina assiste il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti d'America durante l'attuazione del presente accordo. Punto 2. Il Ministero della Salute dell'Ucraina si coordina con gli appropriati ministeri ucraini e altre agenzie e organizzazioni governative al fine di assicurarsi che, al materiale fornito ai sensi del presente accordo, è concesso un trattamento prioritario consentire la pronta consegna alla sua destinazione finale in Ucraina e sono previste adeguate misure di sicurezza per il Dipartimento degli Stati Uniti, rappresentanti della difesa, appaltatori e attrezzature presso le strutture associate alle attività previste dal presente accordo. Punto 3. Il Ministero della Salute dell'Ucraina facilita l'esame da parte dei ministeri ucraini appropriati e altre agenzie e organizzazioni governative di tutto il materiale ricevuto ai sensi del presente accordo e fornire conferma dell'accettabilità di tale materiale al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti entro dieci giorni dalla ricezione dei risultati di tagli esami. Materiali non conformi a quanto concordato dovranno essere restituiti a spese del Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti attraverso l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Kiev entro 30 giorni dal ricevimento del materiale sostituito. Punto 4. Il Ministero della Salute dell'Ucraina o il suo agente designato dovrà conservare tutti i patogeni pericolosi nei laboratori centralizzati sicuri e designati per iscritto dalle parti che hanno ricevuto o lo stanno ricevendo dal Dipartimento degli Stati Uniti. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti può fornire capacità di diagnostica molecolare, comunicazioni elettroniche migliorate e attrezzature per la sicurezza e la tempestività per il trasporto di campioni di patogeni ai laboratori centralizzati. Punto 5. Al fine di sostenere gli sforzi congiunti dalle parti per prevenire la proliferazione di agenti patogeni pericolosi e le relative competenze e per ridurre al minimo il potenziale della minaccia biologica, il Ministero della Salute dell'Ucraina trasferirà negli Stati Uniti al Dipartimento della Difesa copie di ceppi patogeni pericolosi raccolti in Ucraina per la ricerca biologica cooperativa nei laboratori centralizzati in Ucraina e nei laboratori designati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per scopi profilattici, protettivi o altri scopi pacifici. Dettagli di tale cooperazione sono definiti in conformità con il paragrafo 7 dell'articolo 4 del presente accordo o in un accordo di attuazione ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo. Il Ministero della Salute dell'Ucraina condividerà con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti dati generati dalla rete di sorveglianza delle malattie infettive del Ministero della Salute dell'Ucraina o dei suoi agenti designati affinché le parti possano individuare meglio, diagnosticare e monitorare i focolai di malattie in Ucraina. Punto 6. Gli agenti patogeni pericolosi collocati nei laboratori centralizzati restano in tali laboratori per la durata dell'accordo quadro. Il Ministero della Salute dell'Ucraina informerà immediatamente per iscritto il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti della rimozione temporanea di agenti patogeni pericolosi dai laboratori centralizzati a causa di situazioni di emergenza. Il Ministero della Salute dell'Ucraina restituirà tutti i patogeni rimossi da un laboratorio centralizzato a quel laboratorio centralizzato o ad un altro laboratorio centralizzato il prima possibile. Punto 7. Il Ministero della Salute dell'Ucraina o un suo rappresentante designato collabora con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per sviluppare requisiti congiunti annuali e piani di attuazione che descrivono le ipotesi sottostanti, i requisiti e le responsabilità per l'attuazione del presente accordo tra le parti o tra i loro agenti esecutivi designati che firmeranno questi piani. Articolo 5. Primo punto. In conformità con l'articolo 10 dell'accordo quadro, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha il diritto di controllare ed esaminare il materiale, la formazione del personale e i servizi forniti in conformità con il presente accordo alle strutture in Ucraina per la durata dell'accordo quadro. Tali audit ed esami possono essere condotti in conformità con gli accordi di attuazione per la conduzione dell'audit e degli esami dell'assistenza degli Stati Uniti all'Ucraina in connessione con l'accordo tra Stati Uniti ed Ucraina del 25 ottobre 1993. Punto 2. Oltre ai diritti previsti dall'articolo 10 dell'accordo quadro, i rappresentanti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno anche il diritto di partecipare a tutti gli aspetti dell'attuazione dei contratti e delle attività correlate presso le strutture in Ucraina ai sensi dei termini del presente accordo. Articolo 6. In caso, le parti possono concludere accordi o accordi di attuazione aggiuntivi per attuare le disposizioni del presente accordo. In caso di qualsiasi incoerenza tra il presente accordo e tali nuovi accordi, prevarranno le disposizioni del presente accordo. Articolo 7. Al fine di facilitare la fornitura di assistenza in conformità con i termini del presente accordo e fatto salvo il diritto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di condurre audit ed esami in conformità con l'articolo 5 del presente accordo, 1. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente accordo o sviluppate a seguito della sua attuazione e considerate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti come sensibili o dal Ministero della Salute dell'Ucraina come informazioni riservate devono essere chiaramente disegnate e contrassegnate come tali. 2. Le informazioni sensibili o informazioni riservate sono tutelate in conformità con le leggi dello Stato del Paese, destinatario delle informazioni. Secondo le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti d'America, tali informazioni devono essere trattate come informazioni sensibili di un governo straniero e devono essere nascoste alla divulgazione pubblica nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti degli Stati Uniti d'America. Qualsiasi informazione di questo tipo trasmessa dal Ministero della Salute dell'Ucraina al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta del governo ucraino in cui si afferma che sta nascondendo tali informazioni dalla divulgazione pubblica e che le informazioni sono fornite al governo degli Stati Uniti d'America a condizione che non siano rese pubbliche senza l'approvazione del governo dell'Ucraina. In questa dichiarazione scritta il governo dell'Ucraina specifica la data fino alla quale le informazioni fornite devono essere nascoste alla divulgazione pubblica da parte del governo degli Stati Uniti d'America. Tale data per essere prorogata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nella misura consentita delle leggi e dai regolamenti degli Stati Uniti d'America in conformità con una richiesta del governo dell'Ucraina. Punto 3. Le parti riducono al minimo il numero di persone che hanno accesso alle informazioni designate come informazioni sensibili o riservate ai sensi del comma 2 del presente articolo. Punto 4. Durante l'attuazione del presente accordo l'accesso a determinate informazioni e tecnologie considerate segreti di Stato dell'Ucraina può essere fornita al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in conformità con le disposizioni della legge dell'Ucraina sul segreto di Stato. Articolo 8. Il presente accordo entrerà in vigore al momento della firma e rimarrà in vigore per la durata dell'accordo quadro. Il presente accordo può essere modificato dall'accordo scritto dalle parti e può essere risolto da una delle parti, previa notifica scritta dall'altra parte 90 giorni prima della sua intenzione di farlo, a condizioni che le disposizioni dell'articolo N paragrafo 6 continuano in vigore per la durata dell'accordo quadro. In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno sottoscritto il presente accordo, fatto a Kiev il 29 agosto 2005, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue inglese ucraina, entrambi i testi facenti ugualmente fede.